eccoci qua ragazzi benvenuti in live ben ritrovati oggi come potete vedere siamo in compagna del rastone buonasera siamo molto molto seri oggi allora un attimo solo che non ci vedo un cazzo ragazzi un secondo che ci sistemiamo due secondi allora fatemi controllare due cose ditemi se facciamo una prova check del rasta mi sentite mi sentite prova prova a france fanno ridere gli occhiali l'ho sentita rastone vi sentiamo entrambi entrambi dice che ci sentono benissimo ok la prova check esatto dice luigi giusto a me ok bene bene questo ci teniamo sti occhiali perché sennò ragazzi diventò certo io non ci vedevo niente prima per accettare l'invito in gioco ok ragazzi qua allora vi saluto tutti dal primo all'ultimo saliamo un po su salutiamo michela gigul ellie o ellie no ellie forse è meglio ellie fantasy poi andiamo ancora più giù il franzone nazionale dal collo spesso luigi lorenzo bella lorè andiamo ancora più giù salutiamo daniel beat siren tube benvenuti ragazzi bella a tutti allora ragazzi oggi siamo qua su left for dead perché è uno dei pochi giochi che abbiamo in comune anche con rastone mi raccomando se non siete ancora iscritti dal rastone iscrivetevi il canale è rastamic quindi semplicissimo come è scritto sotto sotto di me esatto sotto la sua camera è proprio il canale quello là allora c'è dead da telegram esattamente la zona nazionale con il collo spesso ok allora abbiamo già formato la lobby così non ci incasiniamo l'unica cosa che devo modificare forse qualche la partita perché io vedo qua mi dice campagna pioggia battente no cos'è ma sono le mappe queste vero di quelli sono tutte le mappe che puoi fare puoi farle anche in ordine sparso ok quale vuoi fare le paludi il luna park dai luna park lugubre ci sta capitolo fiera concerto autostrada ma e perché capitolo e sono i capitoli che si fanno all'interno di questa mappa ma non si può scegliere tipo modalità sopravvivenza resistere eccetera sì sì all'inizio dove poi puoi tornare indietro e vedere le altre le altre modalità sarà date ah no siamo nel survi siamo nel survi ok io ti sto guardando dal telefono adesso ok no comunque no dimmi tu cosa facciamo autostrada fiera o concerto ma io ti dico che secondo me sarebbe meglio partire in ordine qua perché aumentano in difficoltà man mano che andiamo avanti ok quindi quindi facciamo autostrada o autostrada tipo serve dedicato ufficiale miglior dedicato disponibile no dedicato ufficiale alla indietro ok ma possiamo scegliere anche il personaggio nick rocky ma io prendo coach mickey e franz dicono che mi sentono leggermente più basso di te ok allora proviamo ad aumentare un po l'audio così mai discorso di scorte che cazzo di scorte un po la merda la mettiamo così prova un po il personaggio sì ok posso scegliere subito vabbè per me uno ma vedi tu dai prediti quello che vuoi ma no vabbè allora iniziamo vabbè vamos così ciao gamer mi chiamo simona bella simone benvenuto benvenuti in live ragazzi mi raccomando lasciate tanti like iscrivetevi se non siete iscritti e condividetela live dai che oggi spacchiamo un po di zombie allora va un pochino meglio anche se un po robotico ma va bene per la cam usiamo skype sì allora un pochino meglio e posso aumentare anche un po e si alla fine per la questione del robotico e tutte questioni di disco dopo un po si assesta se disco è un po così tanto l'ho aumentata ancora un po vediamo se garma ok caricamenti sono un po lunghi mi sa che sta creando tipo la la sala d'attesa vediamo un po abbiamo proprio un attimo dentro siamo dentro a siamo con nick ellis nick ellis mi è lì ci sei anche tu dove hai preso quello qua no ce l'ho già bene ci sono anch'io che chi ha fa tutto quello che vuoi quale mi prende il fucile militare l'ho preso anch'io ok sembra un po ah ok adesso adesso va penso ho attivato qualcosa sento un po tipo appesantito provvimenta me eh oh gesù ok ma che roba io mi sento tipo bloccato non capisco proprio ah mi sta laggando lo sai perché perché ho creato io il server lo sai cosa dovremmo fare dovremmo entrare in una lobby dove non sono io lost perché se ho la live aperta a me lagga un botto ti invito io eh mi sa che se mi inviti tu è il top dai usciamo da questa ok eh c'era qualcosa che non andava un attimo si raga sta laggando perché se faccio io lost è un puttanaio adesso la fa lui e mi invita ok allora com'è che si chiama bella alien benvenuto oh bella mister bioshock bella ragazzi no adesso mi invita a rastone che fa il server lui se no con la live raga implode tutto ciao fernanda benvenuta benvenuti a tutti io ho persero dalla tiro vediamo come l'acqua devi scegliere sopra metti sempre survival guardo invita un messaggio invita in un gruppo unicità via gioco guarda ma che cazzo allora facciamo così è qua perché non mi fa invitare no devi far così alla sopra quando c'è scritto in alto a sinistra gioca survival ci clicchi sopra schiacci gioca con amici e poi in basso c'è scritto crea una nuova sala d'attesa ok quindi giochiamo survival ok ok capito è da lì mi invito con amici c'è ragione ok qui crea una nuova sala d'attesa vai mi mandi l'amicizia anzi l'ha richiesta lo sai e c'è zemo crea la sala d'attesa ti saluta fernanda invita amici invita ok ho sentito sentito il pling ok mi sto andando la partita ci siamo a proprio survival secco sì sì ebbè dai ci sta poi nel caso cambiamo ovviamente sono cibi uscita avvio avvia via avvia 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 ok vediamo se così non lagga di teoria non dovrebbe laggar così ragazzo qui vediamo un po' a bilanga ancora possibile no mi dice che lo stato è buono ragazzi no semplicemente che prima c'era lost c'è lost ero io giustamente con c'ho live skype aperta youtube cioè un casino vediamo un po' in mente ti ha incasinato un po' la linea ma si ho l'immagine di un culo ecco no adesso va bene si ho l'immagine di un culo si io c'ho l'immagine del culo molto bello allora è il mio culo ragazzi io sono non so se lo sapete sono anche modello di culi devi dirmi via così schiaccio sta cosa qua e faccio partire da sopravvivere vai mandala mandala che non lagga ora allora occhio agli hunter che quelli ti saltano addosso ok allora volevo solo cambiare una cosa vabbè jesus christ troppo il volume di gioco ma vabbè non sento gli spari bella walk benvenuto oddio mi ha bloccato il bestione quale bestione arrivo arrivo è questo gigante di mortacci bella edo siamo un po' inzombiati qua si siamo abbastanza incasinati allora che spettacolo che siete hai visto che figurini oh walker noi ti aspettiamo ancora quando ti prendi il pc cioè una live tutte le tre insieme è d'obbligo qua siamo i più vecchi della piattaforma quasi in tutti i sensi c'è un fenicottero ma la conoscete la canzone del fenicottero io provo a entrare qua dentro no non posso entrare allora volevo modificare giusto una cosa che succede? no no niente c'era un po' di casinaccio occhio al bestione mi piace il linguazzo lungo ma qui è bellissimo ragazzi perché tipo muori tanto di fessaltare le braccia, la testa, cioè di tutto ma stai giù respingi oddio mi ha preso un ciccione gigante e io sono a terra sto morendo oddio aiuto mi vogliamo mangiare le balle che sta succedendo? ah è finita? si siamo morti si stiamo morti no aspetta ok siamo morti tutti cosa ha scritto? allora mi salutate sono ritornato bella Gianmarco benvenuti in live ora funziona la grande la live adesso gli zombie si inchineranno davanti a me dato che i server e i pc sono gli stessi ma davvero cioè ps4 e i pc sono collegati Rub prima di far partire la cosa ti metto questa cosa qua e prendi contenuto che sono proiettili esplosivi ok un secondo solo che voglio vedere un attimo una cosa che deve abbassare due cose ok non ti preoccupare tanto prima di far partire la partita ti lascio prendere tutto no sta bastando giusto due cose per rendere anche un pochettino più fluida la live perché abbiamo veramente tanta roba aperta adesso ecco forse così dovrebbe andare meglio un attimo ma giusto per il fatto di Skype altrimenti questo è un gioco molto vecchio cioè dovrebbe reagire in tranquillità però così si si è un gioco che c'era nel Xbox 360 così andiamo tranquilli ecco adesso è molto più fluido hai preso i proiettili esplosivi dove sono questi qua? qui dove sono io? ah no gli hanno presi si due stronzi bastardi li lasceremo creppare Rasta esatto dobbiamo chiuderci insieme Rasta mettiamoci qua sopra c'hai ragione allora io faccio partire ma invece se ci mettiamo tipo nell'angolo no vabbè qua sopra ci sta vai spalla contro spalla come come Rick e Jane oddio minchia è one shot il pom pazzo la lingua la lingua aiuto non me lo slingua anzi Rasta non ho dietro un furgone state boni ma che è? au l'apocalisse chiamate un lisse poi non è neanche spiegato come mai quindi c'è sta apocalisse zombie ma sono nati così cioè ragazzi qui ovviamente Road tu aspettando il 3 di questo gioco che sarà spettacolo cioè pensate che con la tecnologia che abbiamo adesso e con la grafica che abbiamo adesso sarà spettacolo le 4 dead 3 oh che cazzo ah il terremoto i mortacci ce l'ha commesso Rastone oddio è quello che mi ha appena ucciso minchia è pazzo io sfrutto il bug della macchina che cazzo è questo? grandi che mi stanno rianimando ma è fortissimo cioè che cavo aiuto sono sulla macchina vai Rastone bella bella tirami su ah sei a terra qua anch'io eh vabbè l'ho stuprato mica è difficile però eh eh queste cose qua si volendo si può provare anche la modalità da punto a punto allora dai facciamoci l'ultima qua e poi possiamo anche tanto ci sono un sacco di modalità quindi mi sta prendendo allora prendo questo e nessuno tocchi il mio pacchie medico vieni qua ce l'ho anche io il pacchie o no? però li tienilo prendi da questa da questa cosa come le cambio le munizioni incendiarie o ce le ho già? ce le hai già subito ah bella e poi ti rimette quelle ascolta stavo pensando una cosa se riuscissimo oddio qui ci sono un po' di cadaveri la katana raga uh questi cosi qua prendiamoli aspettacolo questi cosi qua prendiamoli esplodono servono sono utili mettiamoli in mezzo ah le bombolozze vai creiamo una situazione tattica qui quella mettiamoli in posti tattica tipo lo metto qua bella ci sono anche proprio le tanniche di benzina ma stiamo giocando con i bot questi due sono bot come si permettono bella dandy boituber benvenuta che bello spaccare le teste gli zombie madora è una bomba neanche la mia ragazza sopravviverà con tutti questi zombie bella Tony benvenuti in live ragazzi ci andiamo un po' con la katana all'inizio stacchiamo qualche testa se vedete cose se vedi cose rosse spuntare da nulla sono io che le sto lanciando ok sono è pallonetto qua è caduta in testa è finita l'ho lanciata no ti è ricaduta in testa mi è ricaduta di morte oh cazzo ecco ci ho sparato colpa mia scusa aiuto faccio partire si si mettiamoci su questo però su questo qua mettiti nel cascione che in sardo significa nel retro qua bisogna stare attenti quando arrivi il tank che lo ribalta ma scusa ma se saliamo invece da queste scale segui mirastone da qui facciamo le stragi oddio posizione tattica qualcuno mi ha protetto c'è neanche ragione questa è bella eh ah cazzo salgono anche da dietro faccio dietro rastons dietro bocca porca zozza ma anche quello enorme sali ecco ok miglia qui ho creato un muro di fuoco impenetrabile beh ci vado un po' con la katana su quelli che salgono come ti permetti eh zack stacca la testa oh qui c'è un'arma sul tetto che è uh sta arrivando il tank quanta robetta oh cazzo quanti sono vai di katana minchia sono un milione ci sono tantissime cazzozza come ti permetti non ti si lava stai caricando oddio questi non si lavano bella Francesco Granano benvenuto in live occhio a quelli che ti sboccano in faccia perché te l'ha un cosa voglio fare il raid non è in live non vi può fare il raid ah vabbè raga chiamateli voi che venite dai facciamo un po' di bordello cerchiamo di trovare magari tutti rosso sono pieno di gente intorno Ugozzi porca puttana ma chi ha bannato chi mi ha bannato nel canale principale bella Lugozzi bella Dodododi ah va devi star boh c'è il tankozzo minchia mi ha fatto fa oddio c'è lui e quello più piccolo sono a terra rassone mi hanno buttato giù eh anche me non mi avranno però almeno per il momento siamo tutti in mano a Alice dai Alice che però Alice c'ha un hunter no Alice eh vabbè è andato allora i zombie jack state tranquilli che veniamo a scopo per rompere per pompare lecchie iscritti no ascoltare quelli che insultano grazie zombie no ma lo so che è così solo che i miei moderatori sono un po' aggressive se iniziate tipo a prendermi in giro a insultare il ban dietro all'angolo comunque ragazzi non so se vi piacciono i feniquotteri ma sono molto belli i feniquotteri mi sono messo a posto il tappetino che ero messo un po' a caso allora vabbè qua direi che ci prendiamo queste ci prendiamo le bombolozze si le bombolozze le mettiamo tutte nel perimetro guarda io le metterei tipo qua giù una piena di bombolozze ne mettiamo una qua giù poi una la mettiamo qua vicino alla jeep guarda qui 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 e poi tutto nel perimetro anche nelle scale qui c'è un'altra bombola e nella piscina ce n'è ancora un'altra si presa poi ne moll'una qua e portani una nelle scale ce n'è altre? eh si ce n'è un'altra qua e poi la catana me la prendo se ci piazziamo qui sopra mettiamola qua voglio la catanozza e mi prendo anche questo via ok fuoco tanto fuoco rub va pesante con le bombe c'è un obiettivo allora praticamente questa modalità è sopravvivere alle ondate ok va un po' a modalità questo gioco ma poi c'è anche la modalità storia che se vi può piacere magari con il rastone ci organizziamo una volta alla settimana ve la portiamo ci facciamo un po' la storia è una bella una bella avventura è una bella avventura si ci può stare boh io direi che che ci siamo ah guarda quanta ce n'è quanta ce n'è qua allora ne mettiamo una negli angoli tipo una qua ah di sopra arrivo poi una l'ho detto qua e poi una la piglio qui e la mettiamo qua nell'angolo e una la buttiamo qua di sotto vuol dire che ci siamo c'è un'altra dai le ho messe io le ho messe io ah le hai messe te va ok ricordati che in ogni angolo ce n'è una quindi se ne vedi molti vai divertiti ma qui c'è un lancia da granate vai vado ad attivarlo uh prenditi il lancia granate che ho p dov'è? ah è questo qua dai prendo il lancia patate io ok dai andiamo così ok bella Lugozzi Gino guarda lì no no saliamo su però giusto è una pazia rimanere oh merda sta arrivando sta arrivando grande rastone io c'ho il katanon non potranno nulla alla potenza della katana 5 o 6 no 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 helpammi qui rastone c'è il tipo che assalta ah l'hunter ah che scatto sto ricaricando bella mi chiedo sono di nuovo a terra fatemi ricaricare zombie no lasciami stare nick hai arrivato il tank sparo nel culo zombie di merda eh muori sono a terra rastone la panzona non mi rianima nessuno c'è il tank no io ci muoio sono morto sei morto? eh sì mi ha mi ha mi ha stuprato il tank mi ha fatto il culo rubo stuprato bella Lionel benvenuto un po' di stango stasera ci voleva forza fammelo sgorgare cazzo ragazzi siamo morti malissimo quanti zombie ecco che arriva l'altro è mezzo buggato cosa è mezzo buggato? dicono che ti vedono un po' lento nella cam no io lo vedo lo vedo lisce ragazzi è lui che è fermo lo vedete che è bello concentrato è concentrato non sapevo che nessuno mi avrebbe salvato in quella situazione vabbè rastone se vogliamo cambiare modalità si può fare vuoi cambiare modalità? o ci tentiamo l'ultima dai lasciamo o sceglierà il pubblico cambiamo modalità oppure ce ne tentiamo un'altra così e vediamo come va io direi che fa lanciapattate come voglio no ma ragazzi è anche un un ventriloquo rasta non lo sapevate? si esatto io riesco a parlare anche senza muovere la bocca ragazzi siete dei dilettanti se non sapete fare queste cose basi varie infatti questa qua è arte da personaggi pubblici eh facciamo un'altra modalità rasta parla senza muovere l'altra fantastico ne faccio un'altra quindi? va si facciamo l'ultima e poi cambiamo va ok si è espresso solo bio vedete un pazzo che fa il pazzo in mezzo alla mappa sono io è che non ci sono posti realmente sicuri perché questi si aggrappano come delle scimmie eh ma questi a parte che ci sono qua ci sono anche delle camere allora questo può essere utile ma poi è pieno di roba qua ragazzi io chiamo il telefono azzurro pronto? ci sono proprio si può entrare in tutte le stanze volendo possiamo entrare qua dentro forse è meglio che dite? eh qui nel cesso però vabbè li facciamo entrare un po' alla volta no però ci schiacciano di brutti ma devo sono in bagno ok va chiudiamo la porta dov'è? non c'è la porta scrianzato ok ho finito ho finito il rastone vabbè dai ho lavo la spaccola io direi che se ci mettiamo tutti su una macchina top secondo me questa qua è la migliore questa qua dove c'è la radio ma guarda io mi metto qua sul tetto ci dividiamo così va proviamo comunque il record della squadra ragazzi è veramente preoccupante abbiamo fatto solo 2 minuti e 20 siamo veramente scarsi con la lancia granate ragazzi è spettacolo adesso ridiamo e get ready ma il tanchino vabbè io provo a sparare a distanza mazza oh si oddio è fortissimo la lancia patate la è fortissimo è veramente OP come si cazzo come si chiama la la sensibilità stanno salendo da là oddio oddio la lingua no aiuto arrivo arrivo mi hanno preso con il lingone c'è uno zombie che vuole limonarmi arriviamo al rastone arrivando con la ciapattate cazzo cazzo mica aiutami che sei lì vicino oh ma hai detto state lontani zombie ma no ma come è possibile ah ecco come è possibile sono la ciapattate primordiale ok è bella dai un minuto e dieci è pazzito cazzo fa c'è un gigante zombie sexy dice mici zombie sexy mi piace ecco quel tank lì mi ha ucciso ecco quel tank lì se usiamo tipo l'esplosivo tanto è buono ecco giuda ce l'ha con me no stai spassando proprio sull'acido oddio faccio esplodere tutto rasta no giuglia ha chiesto chi è world cup e lui ha risposto che è un intruse lo sto rianimando dai bella lì mi devo curare medikits dai 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 curati i rastone ah si è morto eh si il tank mi ha eliminato gli shitti ce n'è un altro sono stato prepariamo lì una bella festina abbiamo battuto il record grandi oddio uno zombie io c'ho l'arma più OP del gioco probabilmente è arrivato il tank e mi ha sopprato no no bastardo mi ha preso il linguozzo adesso è morto stiamo tentando di limonare anche te niente è finita e quando ti prende questo se stai da solo c'è finito oh è arrivato oh è arrivato grande Ellie tirami su c'è il tank di mortacci ma non mi resta no dai vieni qui oh grande mi stai animando è un pazzo eh ciao andato sono morto tre minuti e zero sepia ragazzi porca miseria standard bronzo era quattro minuti ci ha andato parecchio male è difficile come gioco non è facile per niente sì ciao Daniele benvenuto in live c'è anche Dani l'hai visto il rastone con doppia camera ciao Daniele benvenuto in live esatto con Edo siamo amici e colleghi da veramente tantissimo tempo raga benvenuto Ross grande Ross non l'avevo visto allora due spari nelle parti di basse dalla cambiamo modalità ok seguo te quella che ti piace di più la facciamo io spero che se torno al menu principale porto anche il gruppo vediamo provo vai al massimo esco la ricredito la modalità ti rinvito eh infatti facciamo così nel caso allora possiamo provare ah vabbè non ho mai provato aspetta un attimo vuoi provare il realismo o campagna campagna cos'è proprio la la storia sì ma possiamo farla proprio come ci pare ah vabbè il realismo invece il realismo è è un apocalisse più realista almeno questo è quello che c'è scritto sotto eh cioè inizia piano piano e poi diventa sempre più sì praticamente aggiunge tutto quello che ti resta è il gioco di squadra boh dai proviamo questa mi è convinto il realismo mi sa veramente tosta com'è andata allora torniamo al menu principale aspetta così mi rinviti ma te sei ancora lì eh sì vabbè dimmi quando il realismo ci sta ragazzi ciao Giulia benvenuta allora nelle parti basse purtroppo non gli funzionano gli zombie mi sa di no allora Daniele si chiama left for dead che è il primo le prime due parole che ho messo nel titolo dimmi quando posso invitarti vai vai invitami Rastin è da 8 minuti che ti vede ti sento sempre stupendo sei dice Giulia grazie grazie è arrivato il mio roba di Arrasta che devo andare a vedere il suo nuovo video mi dice Daniele grande Daniele allora io scelgo il personaggio come sempre mi prendo il ciccione scegliamo ah scegli il personaggio te prendi ciccione io prendo Nick vai io voto per cominciare ci sto faremo col botto immagino hotel partiamo dall'hotel perfetto vai vai partiamo dall'hotel ok ok ragazzi quindi questa è proprio una simulazione di di apocalisse praticamente tecnicamente si boh figa sta cosa ragazzi tutto sta per iniziare come se noi fossimo qui in live e fuori ci fosse il primo paziente alfa che sta diventando zombie e sta andando ad infettare tutta la città ma noi non lo sappiamo egnuno osserva Franz che osserva la chat praticamente è una catena di quella infinita si oggi ero pigro e mi sono messo solo le cuffiette ragazzi perdonatemi io ho messo questo ciao Diego hola benvenuto Diego welcome non lo so sei italiano penso di si oh bella Mark hola benvenuto è questione di osservazione benvenuti ragazzi se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi lasciate un bel like e condividetela live Rub mi stanno vedendo delle belle idee per farti la fanart dai Ellie sono veramente curioso per qualche oscura ragione siamo finiti su questo tetto ok allora predicata vi spiego chi è Rosta è questo qua in abito e gli altri invece sono personaggi fatti dalla cioè gestiti dal computer quindi siamo su questo tetto mi prendo un'ascia posso prendere un'arma per volta sì o due o due pistole o una pistola ascia comunque medikit puoi prenderlo ti consiglio di prenderlo mi prendo le due pistole un medikit va ok e niente andiamo penso che non ci sia nient'altro qua l'apocalisse inizia dal tetto ragazzi esatto oddio cosa è caduto vabbè è caduto Arrasta ma ha una storia questo gioco è solo no ha una storia walk infatti stavo proponendo ai ragazzi se volete magari vedere una storia dalla prossima live magari una volta alla settimana con Rasta ci organizziamo e facciamo un capitolo insomma a live comunque facciamo la storia se la volete vedere ma sono veramente in piedi sul coso della scala eh sì stai grindando guardati dalla live è un po' un po' bagatina parkour parkour oh merda apri questa porta entra dentro Rasta entra perché mi hai chiuso mi hai chiuso la porta entra Rasta addio caricando oddio ma c'è uno con la veste nucleare ma cos'è sta roba sì sì è pieno di gente vaga ma se io chiudo questa porta sto al sicuro sul tetto no chiudi là eh no ma devi proseguire sì aspetta liberiamo questo piano un po' per volta facciamo finta oh merda minchia ragazzi questo oddio cos'era vieni qua Rastone non ti posso lasciare solo che già fai accoppiamenti con gli zombie sei una persona veramente dei gusti forti vieni di qua vieni di qua che ci chiudiamo in questa stanza torni indietro qua a sinistra di qua vabbè Rastone è andato è andato oddio dov'è che sta esattamente la prima stanza sulla sinistra che ah ok minchia le ho fatto un one shot qua ah qui c'è una una mazza no vabbè cos'era l'altra pistola dov'è no ha perso una pistola vabbè cos'era questo vabbè oppure me la prendo io non commento perché è un po' un po' strana questa situazione chiediamolo ah si possono spaccare le porte si 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 può spaccare tutto va bene allora qui vi sembra abbastanza a posto e questo dice che vivo è morto niente vabbè oh qui c'è una una pala tipo vabbè andiamo così andiamo così si possono spaccare le luci addirittura ti pareva oddio c'è quello gigante qui torna indietro ah questo è quello che sbocca ah ah questo è quello che esplode bastardo uh rasta sei tutto sei tutto verde oddio eh si sta vomita è arrivata un po' di gente che mi vuole ah c'è il tipo con la lingua dietro non ci sto vedendo niente fettecchia ti ha preso? eh qui aspetta che io c'ho un po' di zombie intorno bastardo dove sei? è morto è morto io chiudo la porta perché da qui non deve entrare nessuno va allora entriamo in tutte qualcuno mi sta curando oh grazie sei qui prendiamo questo rub ah ok ce l'ho questo è l'antidoto no quello se lo lanci è presente quando i zombie che sboccano acido ah ok questo è acido tecnicamente si allora apriamo sta porta no questo è chiudo però si può spaccare no qui c'è un altro bene questa si può aprire no no allora di qua ok allora dovremmo andare di qua se non erro let's go ok ecco l'esplosione io mi prendo da bere ci beviamo tutto qua andiamo andiamo possiamo passare di qua ma cosa bella è che le munizioni sono presso che infinite io chiedo la porta pistole si ora dobbiamo passare sul cornicione ah ah rub se sono troppo vicini con il tasto destro gli respingo giusto gli dai una pistolettata in faccia ok però non so come ricaricare quindi io si finisco sempre le munizioni con R ah ok con R ricarichi si io sto ricaricando a palla Franz scusa ma qui non sono riuscita a giocare faremo merdi i zombie che non mi hanno sono i detti zombie io ho paura di cadere veramente molta paura di cadere eh anch'io infatti bisogna andare piano piano soltanto che i zombie non aiutano avanzo un po' alla volta oddio come è caduto questo si a parte che ci sono zombie in ogni stanza non è uno dietro ah no bella gigol ciao nicolas lingua 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 bastardo ok non so se possiamo uscire da lì secondo me dobbiamo continuare io non ci vedo niente mi ha soffocato da qui possiamo rientrare vedo proprio l'entrata andiamo c'è qualcuno qua oh qui c'è una bombolazza ciccione aia potevo evitarlo minchia mi ha esplosato io lancio la bomba ad acido non ci vedo niente vero si non ci vedo più niente addio che sta succedendo oddio zombie qui c'è un'altra bomba ad acido mi sa che lo sia madonna si la bomba ad acido ma che roba oh non finiscono più te ok lancio prendo spazio ah no ma per uno zombie non la lancio la bomba ad acido irreali ma troppo divertente si sono irreali ragazzi ma questo è un gioco del 2009 pensate abbastanza vero il nuovo left for dead uscirà probabilmente l'anno prossimo o forse a fine di quest'anno e avrà una grafica di quelle paurosamente realistiche cioè sarà uno di quei giochi che comprerò all'istante perché sarà un giocone hai detto nel programma di comprarmi il pc nuovo eh con rastone poi si guarda laggiù oddio questi qui così salve cosa fanno questi salve in party zombie oddio zombie eh vabbè non posso ricaricare sempre ogni secondo ma cos'è questo c'è fuoco da nulla così ah non possiamo andare di là vabbè te intanto muovi qua qui c'è una una dobbiamo salire sui forze non lo vuole vuoi la motosegra? ma dove si è sparito tu? sei su? no no sono qua sono qua te dove sei? qua dove? ma dove sei? ma sei passato in mezzo al fuoco? no e prima il fuoco non c'era è esploso tutto qua vabbè qui dove ci sono i zombie c'è una motosega una mot... eh vabbè oddio vabbè sai sei bello spesso quindi una motosega la posso usare eh sì mi sa che dobbiamo passare di qua no mamma mia sì sì dobbiamo passare di qua vabbè ti faccio allargo con la motosega addio non vedo niente eh perché cioè praticamente è cieco oddio beh morite tutti ne quanti zombie mi serve un po' di olio per la motosega che è un po' arrugginita eh eh ha tipo delle munizioni qualcosa del genere sì ha la ricarica cioè la carica c'ha ah e io quando finisco questa rimango senza arma praticamente vabbè vabbè una pistola sega tutti il rub ma chi che lancio ma io mi butto in mezzo addio ho lanciato l'acido ma credo funzionissimo per loro boh spero mamma mia sto lasciando una strage qua è troppo OP questa il corpo a corpo è una bestia l'ascensore il resto ne sa tutto ormai vai di ascensore a che piano andiamo? eh va direttamente ti dico che tra un po' non ci vedremo praticamente rubin domita tutta paura ciao raga io vado ciao alien buonanotte alla prossima ciao alien buonanotte frullati di zombie madò sì eh sì con la motosega siamo quasi alla fine di questa zona sì ma sono vecchi giochi però come hai visto è un gioco abbastanza difficile quando fai modalità survival poi abbiamo appena iniziato immagina ora non ci vedremo oh merda non ci vedo già niente vado avanti vado avanti eh ah io sono da lì la lingua sta passando in mezzo al fuoco ma sono in mezzo al fuoco oddio ho finito tutto c'ho solo una pistolina adesso mi sono fregato eh vabbè io ne ho due no vabbè tranquillo eh qui è meglio se facciamo veloce sì vai 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 dritto la strada la so ti segui? sì sì seguo a te per ormai la strada la so madonna io già non ci vedo in niente ma di là anche in fuoco ah ti corrono questi bastardi eh sì non sentono il dolore eh fagli subito del maio ah non posso sparare a te perché sennò dovresti curarti il rastone sì è vero vai ti proteggo curati pure allora di qua vero? spero di sì 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 di perfetto cioè quello che è che assalta occio c'è Dante non esporti è bagato sul muro oh finalmente si vede madonna c'è un altro non è proprio un hunter ce l'hai interno ok ci hanno trovato ok là c'è la stanza c'è la stanza arrivo vedi qua ecco dice la stanza no adesso ci vediamo ragazzi è bello chiaro per fortuna la save room la save room chiudiamo quando sono tutti dentro ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta oh rachel rachel oh rachel come cavolo si chi ha 99 kill nicchia siamo al sicuro per il momento sta caricando 39 ok io ho fatto 39 corvo a corvo perché quella bella bella così questo killer speciale sono tipo gli altri quelli che sputano eccetera eccetera e ora siamo ancora fortunati perché non abbiamo ancora incontrato la witcher qui c'è il pom pazza oppure l'uzzi silenziato io mi so che vado di pom pazza mi prendo il medikit ok questa è una bella zona eh che avviso vai vai vado vadi aprimi sta porta ho chiuso di nuovo la porta ok il boom pazza è cattivissimo eh minchia se è potentissimo va a te è buono te te ne ho qualcuno dietro vero? no ma gli ho bucato lo stomaco e vabbè giustamente nel zoom ne ho proprio qualcuno ne ho quattro oddio minchia fanno certe corse questi zombie dov'è che dove sei finito? sono dietro il camper ah ok arrivo con la bombola vai la sfrutteremo faremo le belle imboscate vai la lancio lì pronto? vai vai eh non la lancio oddio eh l'ho fatto proprio all'ultimo momento ok ho la sensazione che devo curarmi eh anche io dove curarmi aspetta ancora un po' però eh no io si io si ma posso prenderlo il cono? cosa te ne fai te il cono? e va al centro segna golasso oddio 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 dietro 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 ha laggato una eh vabbè ma ecco perché ho laggato c'è sto coso che mi picchia i mortecci c'è non è che non c'era ce n'è un altro coso là? un altro? medikit sì eh non lo so vabbè io quasi quasi no vabbè il pompazzo me lo tengo dai però se vuoi puoi recuperare quante munizioni hai? 8 andiamo a recuperarle no ne ho 22 ancora vediamo eh vediamo se c'è così c'è anche la cura sono abbastanza ferito sono zoppicando e copriamo le munizioni no cure non c'è cazzo qualcuno mi stava cercando di cura oh grande ah vedi ok ok bella lì prendiamo le munizioni giusto hai prese? ok ancora 30 mega di wifi oh bene 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 ragazzi bene direi che possiamo oddio così? proseguire non è che pure la sboccona mi avevamo ucciso un po' ok direi che possiamo proseguire dai oddio c'è il tipo gigante dietro rastone rastone ecco perchè dobbiamo proseguire ok l'hanno killato l'hanno killato bene così e arrivano peggiori non è che finiscono continuano è un casino ciao smashingero benvenuto in live ciao benvenuto in live smash mi raccomando lascia un bel like e condividila se ti va ma perchè non ricarico mai prima di aprire le porte? viziacci è vero fan cattiveria hai fatto un'assassinata tipo l'assassin's crema esatto mi hai caduto in testa oh cazzo e qua chi c'è? c'è nessun qui un mc oh e invece ci sono munizioni qua cos'ho preso ah pacchetti di munizioni da condividere aspetta ah si quelle esplosive ah vai vai e metterle per terra prendetela prendetela e mi riprendo il medikit si si eh queste ci torneranno utili immagino allora rub io passo al computer che il telefono lo scarico va bene io condivido grazie a smash grazie mille ragazzi rub con il pom pazza abbiamo il pom pazza esplosiva con lo lungo vai io vedo degli zombie tanti zombie oh ne ho uno in testa ok ok mi ha salvato il proprio subito l'ho visto l'allezetto si tocca il rushtone c'è quello gigante qui holy shit qui c'è la festa eh vediamo un po' se c'è qualcosa qua dai spostati un camion qua un pompa ma si dai che abbiamo oddio oddio qui c'è una witch cosa facciamo le rompiamo le palle o la lasciamo stare cosa fa la witch dai vediamo cosa fa la witch fa male fa molto male ti avviso oddio oddio ma ma ha one shotato ma ha one shotato sta bastarda sta andando via vabbè rastone devi chiederla tu questa mappa mi ha one shotato ah ti ha one shotato si minchia cioè esagerata io avevo detto che faceva male e caspita ma nessuno è venuto a curarti no ma cioè come mi è saltato addosso ma mi ha ucciso cioè è una cosa incredibile eh si lei è potente mi sa che moriremo male in questa mappa sei sull'acido rast eh ah infatti vabbè nel caso la riaviamo eh mi sa che la witch la lasciamo al prossimo giro senti in una situazione un po' brutta almeno da questa visuale non è il top ok infatti io cerco di squagliarmela il prima possibile maledetti zombie ho bisogno di vita le situazioni quelle quelle losche malca troia fan qua il rasta zoppicante l'estoffante ok passo adelante che culo ho trovato un medikit vai devi vincere per noi ma io come si chiude la mappa dovrei riuscire a tornare giusto in teoria si si se torni ok non possiamo fallire e comunque c'è una bella differenza tra livello 1 e 2 della storia è il doppio più difficile ok adesso sei riapparto ti avevo perso per un attimo oddio astag l'estoffante forza rasta ti fanno tutti te perché giustamente sei rimasto tu capo team ma tipo puoi curare forse un compagno la eh si ma ormai sono tutti a terra ah no ce ne sono ancora no c'è solo ellis che sta messo male eh però se se curo uno di loro mi tolgo ma forse dentro c'erano le pillole potresti usare quelle e curi ellis nella stanza di prima nell'armadietto mi sa che l'avevo visto non l'ha preso e l'ha incogionita no vedi curalo con con le pillole se fa eh non so aspetta ellis no cambia il tuo arco oddio quanti sono rasta sono in tensione per te dice daniele la pizza bababia la pizzeria madonna mi fate venire voglia di pizza siete dei lastoff anti eh vado avanti vado avanti vado avanti vado avanti allora madonna raga stasera non posso assizzarvi con la mia connessione non lo permette no mister no cazzo adesso adesso oddio questo non aiuta dici questo è forte boh cazzozza ok ora sta ti conviene non attaccarlo più così attaccano lui e dovresti curarti con la vai curati ora che sta attaccando l'oro boh non è vero è impazzito sta lanciando ma no ragazzi non si può morire così picchia il gigante picchia il gigante io finché gli posso sparare gli sparo c'è la tipa a fianco ok siete morti tutti che sfiga si è mandati eh si rinizia da capo allora io mi prendo il pom pazza si la witch la lasciamo si sarebbe una cosa migliore pronti go arrivo ah ma questo è partito va bene intanto ho un fucile a porfa ce l'è zoffante qua sai cos'è che il tempo di ricarica secondo me è troppo anche lento eh si ci mette un bel po quel pom pazzo però c'è anche la pistola cosa bella è quella con tutte le armi ah ma 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 Stunni Eh, mo ci vado di pom pazza perché mi son rotto Dai eh Il golem Mi ha preso Mi ha fatto una carica di quelle epiche Lui mi ha proprio caricato come un toro quello Faremo i culi, forza Proseguiamo Una cosa migliore Oddio di qua Ok Molto bene Basta che non rompiamo le balle alla witch Secondo me fila tutto liscio come lui Sì ma vieni molto casuale Oh cazzo Eh vabbè Io ho aperto la porta e mi sono trovato Cos'è? Ha fatto un 360 nella polizia Ti tiro su Dai eh Tirati su Raston Ok Ok morto quello Bene Ok Stiamo sopra una macchina No vabbè ma mi ha fatto una macchina Ma che sfiga ma le attiri tu eh Ma dove ce l'avevi poi? Ma infatti dove è arrivato? Mortacci guarda Allora qua dovrebbe esserci qualcosa No? Ah no è di qua la porta Ah no di lì Qui c'è un pampazza Quanto era c'è il Ci sono gli uzi Tutte le munizioni Ma mi sa che io cambio Dal pampazza mi metto l'uzzi Non è male eh? Sì mi sa che non è male per niente Qui è tutto tranquillo qua fuori Eh però è tranquillo Facciamo i culi grossi smash Attirateli nel fuoco Non farà molto però esatto Purtroppo non farà molto E' quello il problema Dio arrivano Sì farà giusto Eh è bello la Il mitra Oh madre Uh ma c'è una molotov qua Bene Vai vai piglia Eh questa qua mi sa che ci servirà più avanti Nel punto dove sono morto prima Spara quello Oddio Comunque è strano Beccare una witch qua eh In questa zona Era qua proprio Quando l'ho vista Questo è impazzito Che roba è Nel furgone bianco ci dovrebbe essere qualcosa ma Penso che sia un tuccio a pompa Ops Stavo sparando a cosce Allora io paro Paro dietro Ok Il video è che possiamo proseguire Aspetta che ricarico Oddio c'ho il bastardone acidone Minchia sto per morire Se mi dai una protezione Mi curo un attimo Dove sei? Dietro Dietro Ok Ok Dai ci sia Uh c'è il tipo con l'acido dietro Ok Benissimo Dobbiamo curare questo Ah non posso più curarlo Io perché non l'avo Bene Bene benissimo Ok Vediamo cosa c'è di qua Di bello di questo gioco che doveva essere un'esclusiva xbox E poi invece è uscito per tutti Sì per il pc No no Il prestigio no Uh vieni qua Vieni qua che Qui ho visto tipo delle pillolozze Qui c'è l'ascia Uh medicit qua Ok Mi sa che curiamo ellis Che lo vedo messo male Prendiamo le munizioni Mi prendo la R Mi trabello ma difficile da ricaricare Assolutamente sì Trovo un bazooka Mi basterebbe anche il lanciapatate Sinceramente ragazzi Non so se c'è il bazooka Lanciapatate la vecchia mappa Il poco giù è poco mia Non sono dietro Ok Mi si è impiccato il plus Ci vedo più niente Anch'io Quanti sono laggiù Ce l'abbiamo una Ecco lanciamo questi Oddio Vai No Devo spararla Bene 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 così Ok mi sono messo in un vicolo ciecolo Però va benissimo Ho il fuoco davanti Eh l'ho lanciato io Ciao qua Ciao Rastu Rastu l'abbiamo lasciato qua sotto A prendere le botte Ok possiamo proseguire Aspetta vado un attimo nel seback Ok effettivamente non si sa mai Mi son cagato da sotto Meglio farla subito Aspetta ma questo lo posso curare no Vabbè andiamo Ok Mi sono incazzato Oddio quello sta vomitando la che fa Aia Una cosa di qualcuno C'era l'acido Dove è che siete? È qua Ah si è salito da lì Sì sì dovete salire Si sale Arriviamo Guardalo col bombolozzo Tattico Oddio No non spararli Non spararli i bombolozzi Eh sì non sono tantissime Oh merda Vabbè ci stavo No Ma com'è? Oddio c'è un braccio lì Qui c'è un braccio sì Ecco qua C'è un mezzo busto Oh Gesù C'è un cazzo Ok perfetto Di qua Saliamo su ma Si Oh cazzo Ma dai ma non qua Ma perché? Ma dai ma perché? Minchia nelle scale è proprio L'inculata Aspetta che mi curo va Non mi fido C'ho il 47% Salto vampirio Vampirico Questa c'è la pregna Questa Ok Stendiamo come dei pazzi Uh uh Bene Oh c'è la witch Fermo 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 Ah cazzo Ma l'importante è che non le spariamo addosso Eh Una parola L'ho attivata Allora Quando Si ferma il fuoco Direi che Arrivo un mezzo Ma non hai capito che sta succedendo qua sotto Il bordello Oddio l'ho sparata la witch Fuggi Sali su Sali su Oh cazzo Ah Merda No ce l'ha con me No mi ha washottato Ce l'ha con te perché gli hai sparato te Brutta bastarda Witch di merda Witch di merda La witch è veramente una bastarda Cioè ti shotta Ti prende un colpo Ecco prendi il mio che è molto più Prestante Ti è molto più Ti è molto più ucciso Vabbè non ti preoccupare Adesso siamo Alla fine Siamo alla fine Bene dai Questo la chiudiamo Alla fine di questa cosa qua Vai di Tanika Dice Edo Stiamo per entrare in un'armeria Bene Vabbè Eccolo là Classico Minchia non morita è qua eh Ok Cazzo ci fa qua Tira su Il giappa Ok Ma cazzo ma non è questa La save room Eh no Non è questo no Prova a vedere un attimo che armi ci sono No magari c'è qualcosa Occhio che sotto ci sono anche le munizioni Ah c'è il fucile da cecchino addirittura Ma non le puoi prendere tutte Roba seria La K47 Minchia raga c'è di tutto qua C'è un arsenale Questo anche c'è Dov'è di? La doppietta Cos'è? Non è proprio una doppietta È Un pompa A calibro militare Ah Eh Questo È però una bestia Provalo un attimo lì nel tabellone Dietro C'è il tabellone per Ecco quello là Ah no Sì quello Sì quello lì Minchia Sì è fortissimo E questo è una bestia Vai con quello Facci vedere un po' Ammo here A corto raggio Mi sono preso tutti i medici Eh la witch ha la mamma E c'è la mamma Ma come stai parlando con il tipo dell'armeria? A far incazzare la witch Io ho Io e la witch Ho una storia di un grande amore Ah ok Ah vedi c'è un pannello dall'altra parte Che devi attivare forse La luce Lo vedi? Ah sì è vero Ah no save less Forse è la save room quella No Qui devo prendere la coca cola E portare un punto Adesso mi ricordo Oddio Eh non sarà facile La coca cola? Ci devi mettere dentro l'elemento O se la devi lanciare in mezzo agli zoom No rasta indietro c'era la porta blu Che dovevi aprire mi sa Cazzo Eh vabbè Eh vabbè È un bordello Stai dietro Stai dietro di loro così Ma c'è qualcuno dietro Non ci vedo niente Il bello del fucile E che spari a casa E che spari a casa e prendi Sì ma poi anche se ho zero proiettili Posso continuare avanti con un proiettile alla volta Eh infatti Ma se prendi quella coca cola là Lì a sinistra Cioè dietro di te C'è una porta mi sa Che puoi fare il giro Prova a vedere un po' Mi sa che devo portarla qui da qualche parte Ah ok vai vai Oddio Vai quella ammazzata Ok Nì dietro un sacco rasta Stai facendo un bordello di danni Eh sì Ancora un altro Ok Davanti Dietro 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 Torna indietro rasta Torna indietro Pieno Indietreggia indietreggia Devo curarmi Cazzarola Ah qualcuno mi sta tirando su No mi sa che è morita C'è anche il bestione Cazzo eh siete morti Siete morti Oh magari ce la fa Magari ce la fa Attenzione Ti sta tirando su Sì Oddio Rasta curati subito Assolutamente Minchia salvata GEPC Delle NPC Incredibile Sì guarda Non sono tanto stupidi Prendi la coca Prendi la coca Devo portarla là Prendi la coca Guardate come tiene la coca Corro corro Non mi guardo indietro Guardate come la state Ah posso anche farlo vedere davanti Coca Cola Cosa c'è scritto Cola time Dotti zombie Fatemi riportare dietro Poi mi spiegano Cosa serve la coca cola Sinceramente Ma curioso Per me è quello che ci ha mandato A prendere C'è mandato a fare la spesa Praticamente Ho finito la coca Guarda lì davanti da te Sotto le scale C'è una Una bombola Dove? Dietro di te Là sotto le scale Ah l'ho vista Eh però Vaffanculo C'è la witch Ho sedito l'urlo Ok Fuggi Vado Direttamente a portare Sta cosa Fuggi Ma vaffanculo Domini maledetti Oddio È un casino Vai 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 che ci sei Ormai ci sei Seconda fase zombie Vai Ok Ok Gliel'è messa A cambiare Unizio Quello ci serviva Oddio Vado a prendere qualche Un'unizione Che è meglio Allora cambiamo Passiamo A questo E prendi la L'Akpino L'Ak47 L'ultimo lì a sinistra Secondo me Spark Eh Questo Questo è serio Qui c'è Minimino laser Le grandi esplosioni A caso Dice Franz Quando è esplosato Quel camion La Sì veramente C'è il rubà a caso Veramente Qui non c'è niente Vabbè andiamo Andiamo Beh qui l'ha detto La coca E boh Finito Allora devi entrare Dentro questo negozio C'era una porta Sulla sinistra Mi sa Mi sa che devo andare Di qua Ah di là Ah è vero È esplosato tutto qui Beh Era un'esplosione A caso Ma in realtà Ci serviva Per andare avanti Quindi vabbè Questa witch Deve andare Mammina Ha un sacco Di rinculo Questo Però vabbè Cazzo Allora ti dico Solo che La situazione Non è delle migliori Dietro Oh no La witch Merda Merda No no Se ti prende Sei morto Rasta No Cazzo Minchia La witch Porca puttana Raga Siamo morti Tutti Porca Oh è difficile Questa fase Ammazza Vabbè ci siamo tutti Adesso ci Allora dobbiamo cercare Di andare veramente cauti Cioè chi ha la witch Dietro deve correre Come forest E non guardarsi Mai indietro Sì la witch Non dobbiamo Gli mortecci I vostri Non dobbiamo cagare Tu cosa guardi Nella spazzatura Mezzo Mezzo Scusate se fumo In live Non fumate ragazzi Che fa male Rastone può Perché ha tre polmoni Magari Cos'è Oddio Oddio Come gli ho squarciato La schiena Questo Madò Però gli effetti Sono fatti Dai Per l'epoca Era un giocone Ragazzi Pensate Nel 2009 Questa grafica Era Era tanta roba Ho un coso in testa Minchia Questa qua C'ha C'è il collo lungo Franz Oddio Faccio esplodere tutto Ma hanno mandato a terra Perfetto Cazzo Ma sbaglio Se sono potenziati Sti bastardi Che secondo me Ai Ho avuto anche io Questa Miglia Sto potenziati Perché Ti vedo zoppicante Miglia Sto morendo Proprio Sono la frutta C'è qui C'ho questo Panzone Guardatelo È vero Non si fuma Però Il vizio c'è Purtroppo Non fumate Non fumate Non prendete Cattivi esempi Provoca Cancro ai polmoni È vero che io sono anche informato Su quello che può provocare Però non capisco perché Non riesco a smettere Pur sapendo quello che La dipendenza Raga È vero È vero È vero Oh qui c'è un Un ami Uh Ho trovato la dinamite Ne la spariamo direttamente Nel culo alla witch Perché non la lancio questa Guarda Ok Che poi la witch Se la prende Se la prende a male Solo con chi la infastidisce Io mi sa che Per sbaglio Devo averla colpita Oddio Non riusci a infattare Per la porta Via Vabbè ma è un casino qua No qui ci muoviamo male Un attimo Un'unizioni Infatti Si buttano dei tetti Ma Vabbè Vai con le mie miga Merda Ho un hunter addosso Oh caspita Bella Rasta è morto Io c'ho una dinamite ancora Lo stiamo curando Il problema è che Ok c'è questo Però non farà niente È un atti dolorifico del cazzo Il problema è che c'è soltanto le pistoline È meglio Un attimo Allora Qui dietro ci dovrebbe essere qualcosa Quindi la witch praticamente Spunta a caso Da quel che abbiamo capito Si è molto casuale Oh bene Medici Tu medici Bene bene Ma che è tutto strano Io mi sto portando Non ho più munizione Bene Lì c'è Ok ho preso il pompo Ho preso il pompo Andiamo Sì anch'io l'ho preso perché Ero a secco Qui c'è qualcosa Oh Bene È cristiano cattolico Daniele Non stadi? Aniamo Ci ho messo un po' a capirlo Boom bitch No non esplode Oh Adesso esplode Guarda gli attira tutti Bella Perché fa rumore giusto? Sì Oh caspita Oddio ma è pure la taroscella Come mai? Eh perché C'era il tipo che Che tipo sprintava qua dietro Pazzito Sei messo male? Sono messo il mauccio Sì Sto zoppicando Sto morendo Allora Ci dovrebbe essere tra un po' Qui c'è una molotov Prendila prendila Sì perché io sto full C'ho la dinamite Ok Ah vediamo Magari qua c'è qualcosa Oh qui c'è qualcosa C'è il medikit Ah ok Aspetta che mi curo Allora Oddio la lingua Ma dai Dove? Eh Sono Fottuto Dove sei? No c'è la witch Holy shit No vabbè Lancio la dinamite Fanculo Eh ti hai ancora diute Ah sono rimasto da solo Praticamente No vabbè Non ce la farò mai ragazzi Lì Dietro di te Ci dovrebbe essere Un Un armadietto Con un medikit L'ho preso Tienilo è meglio Te Te Astardo Finiti Mi prendo la capino Ok Ok andiamo di qua Ok andiamo di qua Vabbè ragazzi Sono rimasto solo E la C'è uno che dice Di essere francese In chat Francese Ma non mi aiuta Ma non mi aiuta la tipa Ma parla in italiano Ah francese Meglio Perché io il francese Non so Allora devo usare L'ultima cura Che c'ho E poi son fottuto E magari più avanti Ne trovi Ok Ma mi sa che ti troverai Nello stesso punto dove Ce l'ho prima io Speriamo senza witch però Allora la k non è per niente male Però il problema è che Ha un po' di vinculone Eh si Allora mi ha scritto Enric E anche lui Left 4 dead Siamo in live ora Se Vieni in shot Oddio Eh io scrivo dopo Daniele Vediamo Se al prossimo Giro Ti fa Invitare Ok Se C'hai tra gli amici Te Dovessi invitarlo Te Eh vediamo Ma non so Quando ce lo può Far invitare In realtà Siamo già In questa missione Eh Doviamo uscire Eh no Mizzere Abbiamo Ci siamo arrivati Quando da fatica Non usciamo Eh possiamo Riprendere da qua Cioè Dall'inizio Di questo Di questo pezzo qua Allora dovrei andare Quassù Sì La gente Ma dove corri I mortaci È abbastanza Luigi È abbastanza Difficile Minchia è difficilissimo Ragazzi Non avete idea Qui mirare con questa Cacchio di arma Che è fortissima Ma è smiratissima Allo stesso tempo Quindi da vicino È una bestia Però Lunga distanza Non è il top Si può essere Un problema Ok 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 È entrato in live Enrico Fulmini Ecco è lui Enrico Enricone Allora Enrico Dobbiamo finire Questo livello Oppure Se moriamo Cioè se dovessi morire Ti invitiamo Dalla lobby Così siamo in tre Molto meglio Eeeh Che cosa è successo C'è una Eh dinamite Eh vai via No la witch Ha detto che lo devi installare Eh Oddio esplodi esplodi No sono morto Non ci credo È difficilissimo Questo livello È abbastanza Sì è vero Eh Henry Noi stiamo Finale 11 e mezzo Oggi Perché poi il rasta Alle 11 e mezzo Deve staccare Sì 11 e mezzo 11 e 40 Eh E quindi Insomma Ci stiamo ancora un bel po' Però Vedi tu Mettila a scaricare Se no lo metti a scaricare Per la prossima volta E Giochiamo Tanto sto gioco L'ho comprato Perché C'è anche il rastone E almeno possiamo giocare Un po' insieme Qui è anche figo E tra l'altro Avevo visto su Steam A 1 e 99 Esatto Mi ha avvisato Oh quella che è 1 e 99 Ofertone Cioè 1 e 99 Anche se Dovesse far cagare Dici vabbè ci sta Però Per un gioco così Sono ben spesi Ragazzi Io l'avevo pagato Sì non è tutta questa grafica Però è divertente Perché L'avevo preso Quando costava ancora 20 euro Ma l'avevo preso Da un sito E mi avevano mandato La key E quindi L'avevo scaricato Mi ha preso Mi ha preso Rasta Tutti i giochi Sto prendendo Così Dove sei? Minchia Sto per morire Malissimo Sono qua dove c'è il palo Oddio Ok Arrivo Oh non mi lasciano Oh ce l'hanno tutti con me? No no C'è qualcuno anche con me Tranquillo Che cazzo sono? Ok Cioè c'ho il 10% di vita Il brutto è che Quando ti attaccano Ti rallentano Tantissimo anche Lo sai cosa ho scoperto Rasta? Dimmi dimmi Allora hai presente Quelli con la tuta? Sì Praticamente Nella tasca Hai visto che c'hanno La boccetta Dietro Praticamente Se tu li vai dietro E gli dai un colpo Così Da vicino Lui si sbilancia E poi se tipo Non spari dove c'è la boccetta Gli cade La puoi prendere Cioè almeno io ho visto Questa cosa Poi non lo so È una cosa interessante No Allora facciamo così Agiriamola Passiamo di qua Cioè è incredibile Vabbè dai Passiamo di qua Oh merda Ok Occhio che sta arrivando un'hander Sì vuoi passare dall'altra parte E te la mettono in sacco C'è una bombola dell'ossigeno Allora Occhio occhio Quello che è stato Ma oddio C'è miseria C'è quello con la lingua dietro Vabbè Abbiamo cambiato strada Ma non è che è stato il top Ma gli ho dato un colpo di bombola Mi ha aggiunto agli amici Cioè mi ha chiesto l'amicizia Ah ok Grande Enrico Ciao Daniele Notte Buonanotte Dani Oh io ti ho colpi di bombola Te Non è perché io non posso chiedere l'amicizia Perché non ho ancora Diciamo Speso veramente soldi Su Steam Infatti Che gioco più su console Quindi Eh beh certo Viene un po' Ma in realtà mi devo prendere il pitch Che muovo Oh se vuoi qualche configurazione Poi ci sentiamo in privato Eh sì sì Infatti volevo Aiuto Stiamo cosa in testa Ok Allora vediamo cosa c'è qua Quello che ti salta in testa È il jockey Invece quello che ti salta addosso Per stuprarti È un hacker C'è un'arma Sì Bene Oddio cosa sta entrando qua Sì vedi che gli è caduta la razione A questo qua Di veleno a terra La puoi raccogliere Sei già? Sì io sì io sì Allora mi serve solo un'altra arma Perché ho finito le munizioni C'è la mitoglietta lì Sì l'ho presa Molto Oh bella Jaru Benvenuto Ciao Simone Oh c'è anche Simo Non l'avevo visto Non so da quanto ci siete ragazzi Grazie mille di essere qua Sono con Rastone Come vedete a doppia H Ma oggi Non si scherza Siamo morti già tre volte In questa mappa Per colpa di quella Bastarda di una witch Sì sì Le witch bisogna lasciarvi in pace Ragazzi Se inquadrate una witch per strada Non chiedetele niente Passate dritti Non chiedetele quanto vuoi tesoro Perché ti mi piace Quanto vuoi tesoro Niente no Che tra l'altro In un'altra zona C'è la witch Però vestita da sposa Ah E' molto più Cattiva Scusa Beh io mo' uso questo Te E me lo riprendo Allora vediamo nel camion Se c'è qualche arma migliore Perché questa è un po' Una fettecchia Dovrebbe esserci Un po' Un po' Un po' un pazza anche La katana Ah sì? Eh sì Questa me la faccio a katana Zacchete E Rasta Qui c'è la L'antidoto C'è il C'è il Cosovo Ha ucciso Rochelle Il tank Ma è detto Mica quanto è forte Io lancio questo Te E' morto Un po' E' rushell se n'è andata Vabbè Alice mi sta ricaricando Bene Stanno arrivando una catterva di zombie E io ho pochissima vita Conviene farli scendere Da qui Vediamo una spompata Ok Bene bene Ho ancora un pompa Ma ne ho già Oddio ho visto un hunter Ok Ok è morto Prendo le pistoline Eh sì Il pompa Perché mi sono rimaste Le pistoline Vai vai Oh Rasta ti curo Fermo un attimo C'è una cura Io sto a 62 Ma tu stai morto No mi sto curando Come te lo butto Come faccio a curare Con la catarna Non so se mi curi Beh è una cura alternativa Tagliavo tipo le zone infette No mi sto curando Non lo fa Ah ma c'è un qualcosa Un tazzo e dice cura Non so In realtà non No Fa niente Occhio occhio No Rasta Micchia Adesso si che stai fritto Chi è che mi ha sboccato Acido in testa Oddio Con la catarna Qui c'è una molotov Eh vabbè C'è di tutto C'è Io mi sa che la prendo Al posto di questo No Secondo me Micchia Rasta Non più cammina No ma cosa è successo Ti ho ucciso Perché così ti rianimo Eh almeno Voi un po' più veloce Se muoio stavolta Sono fottuto Ah ti ho fatto anche saltare La carta jolly Ciao smash Buonanotte Grazie mille Alla prossima Ciao smash Aspetta Allora tu stai dietro Rasta Stai dietro perché se troviamo Una cura Te la pigli tu Eh dovrebbe esserci Su Stai indietro Fai andare avanti Fatto bene a farti andare dietro Oddio Ok Su ce n'è una Non mi ricordo male Da c'è qua Cosa c'è Defibillatore Quello no Non mi serve A me Defibillatore Si ma non andare avanti Non andare avanti Se andare avanti Ho trovato Un attimo Ah ok vai c'è il medici Qua Sto pezz No No sei morto Mi stavo curando Porca Cazzozza Ma dov'è Elias Cazzo sta morendo giù E' morto Eh ma vaffanculo C'è il mio medikit comunque Non sono riuscito a usare No raga Qui so fottuto Ah no ce l'hai Ma fa chiudere la porta qua Eh no non c'è la porta Mi curo No cazzo raga Tutto nelle mie mani Addio Ma non ce la farò mai C'è Vieni i medikit che stavo per usare Mentre Quando mi hanno sboccato addosso Ce l'ho Eh ci andiamo Con questo va Ok Speriamo bene E che se arriva tipo uno di quelli che assalta addosso Altre robe Beh sono finito Qui stanno ipotizzando su come ha fatto la strega A piangere Come fa la strega a piangere Ecco qua E' finita No non ci credo Eh questa è sfiga Cioè Io mi stavo curando Mi sboccano addosso Te rimani solo E ti sento un gioco In testa Questa è sfiga No mi lascio uccidere Tanto cosa posso fare Vediamo il robe Me l'hanno tirata qua proprio Che poi iniziamo tutti mezzo morti C'è una cosa incredibile Ma che ci dovrebbe essere qualcosa No io mi prendo questo forse Ecco devo un goccetto d'acqua Allora ragazzi ci andiamo molto più cauti In chi hanno fatto questo treppone Jaru Allora rasta non è i gossip sulla strega Non va bene Cioè io ho i gossip sulla strega Il problema è che sono tantissimi Perché praticamente Ogni mutazione zombie Può avere un qualcosa A riguardo sopra Tipo il tank magari Poteva essere un builder Prima di diventare uno zombie Un po' di builder Sì Nella strega che cos'era? E' una che ci è rimasta male Perché al suo matrimonio Ha avuto un attacco zombie Ma fa una grinza Però c'è una main Che è fortissimo questo mitra E' illegale Questo è buono La mitragliettina? Sì sì Però secondo me Si ricarica un po' troppo lentamente Per quella Però ha molti colpi Sì Mi stavo chiedendo Ma perché sto andando indietro? Poi mi sono accorto Che stavo schiacciando il tasso Per andare indietro Holy shit No no Mi ha preso il tipo con la lingua Dietro il camper Dietro il camper Dietro il camper Boh In giro Boh direi Proseguiamo Via 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 Non ci sono witch Però c'è questo Ok Ok Dai questa volta siamo belli attrezzati Io dico che l'hanno mollata L'altare Mi schinedda Un attimo E si è esaurita E può essere E può essere Sì sicuramente Il suo è per un Qualcosa di Di psicologico Invece Quello che Sbocca Aspetta che voglio Regolare un attimo L'audio Ok Tanto Ti copro Ah no Vado Dovrebbe essere a posto Aspetta che quello da qua Rochelle Bene Ciao Rochelle Ciao Ciao Rochelle Ciao Allora That's for dead Ecco voglio Metterlo così Ma cosa è sulla maglietta Oddio Cosa sta facendo Oh cazzo Tu stai guardando zombie un po' Eh vabbè Eh vabbè Mi sbocca in testa Penso di avere qualcuno dietro Io non ci capisco niente Che sono tornato alla normalità Ah ma cazzo ma potete essere di apparire questo avviso Aspetta che No È rimasto nero Ok è scomparso Bene Di qua Oh Siamo messi abbastanza bene A me è apparso un avviso strano Oh cio cio lì Ogni tanto mi rompe le palle Ok è scomparso Ok no dobbiamo salire di qua o no Ah no di qua vero Sì 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 Ma io uso un po' la pistolina A questo punto ci può stare Qui potrebbe esserci la witch O cio Vero Ma cazzo Mi sto bruciando Colpa mia Ma mi sa che ci ho sparato io Non lo so Andiamo verso il camion Che Ah c'è il pampazza qua Ecco C'è un foglio Sotto il tappetino del mouse E mi portavo dietro Anche il tappetino Praticamente muovevo il mouse Ciccio Questo gioco mi ispira È una figata Luigi È molto divertente Sì è un Un macello Un macello Sì c'è Onde di zombie Anzi orde Pensa che io ho un avviso Nero Di un altivirus Ogni tanto mi dice Guarda che Stiamo facendo La scansione Che mi parta Ah la stai facendo adesso Sì E ho l'avviso Che soltanto è tutto nero Però almeno è sopra La mia mitraglietta Quindi non mi Ostruisce la vie Eh sì è bella inquietante Più che altro è molto Oddio C'è il vomitino Via 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 Ecco quella potrebbe avere avuto Non lo so Un Un attacco di Prima di diventare zombie Io mi curerei il rasta Curiamoci Dici Sì no perché poi ci fottono Tanto in ogni caso Ti cura Della metà Perché moriamo sempre qua Poi tra l'altro Quindi Ah beh sì Qui possiamo anche Fare l'upgrade Delle armi Eh Dobbiamo andare su Minchia No Via 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 Nelle scale rasta Ok Posso nulla Aspetta un attimo Un attimo Ok Ok No Sono preso un po' di munizioni Alla grande Merda Prendo le pilorozze Un attimo Che mi stia Ok Sono tornato Mi Scusa perché Questa è la situazione Molto all'osca Ok Sto laggando Non più Bene Ha ripreso Ho funzionato Sono dovuto Occhio dalle scale Dalle scale Ok Perché I pc Mi sarei la voglia Di rompere Oh Cazzo Ok Ritiralo su Ok Dov'è Madonna Allora Guarda qua giù Il bordello che c'è Ci serve Vado a controllare Giù se c'è qualcosa Di esplosivo Aspetta Ah Non c'è niente Io intanto ammazzo Quelli che arrivano da sopra Ah no Ok Niente niente Dai Vabbè Io li ho tirati tutti in un punto Con i cosa Guardi Ottimo E da lì possiamo spararci Ho capito Cosa serve Questo Guardi Guardalo come schiva E vabbè Cos'è Chi era? Un parkourer Quello era Ah ma Mi sa che era l'hunter Andiamo giù? Un pazzo Occhio c'è il Sputtecchia Ok Sì Buttati Buttati Beh A questo livello Non eravamo mai arrivati Tutti insieme Ancora vi Non vorrei tirarmela addosso Ok Io sono sui cesti E' un buon punto questo Dobbiamo partire di qua Ecco Da dove arrivano questi zombie No torno indietro Torno indietro Che stanno arrivando A orde Ah già Che poi non sono I classici zombie Un po' rincoglioniti Questi sono veloci Cioè Cicciobomba su Oh c'ho Ah ok Mi hai sbloccato in testa Ma non è un problema Tiro la molotov Addio Stai tirando dove ci sono i zombie Ci sono io in mezzo a loro No non lì Stanno cercando di fare una game Un link con me Ok dai Ammazza oh Che botta Nella fine per forza State più di là Che di qua Qui c'è un medikit se vuoi Eh sì Può stare Dov'è E qua dove sono io Io l'ho appena usato Ah bella Questa ce la portiamo dietro vai Dai che questa volta lo chiudiamo Di qua o di là Qui c'è un altro medikit tra l'altro Ah dove? Posso nello scaffale Perfetto Vai vai Siamo belli attrezzati adesso Oh merda Probabilmente arrivi Oh cazzo Arriviamo alla Minchia Ottio che esplode È fuoco Che tra mai è fuoco Via 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 giù Eh niente io mi sparo la cura Sono a metà Una cazzarola Menomale che l'abbiamo trovato Bella wolf Benvenuti in live Ciao wolf Benvenuti in live Mamma mia raga Tosta Siamo vicini all'armeria Bene Dai Aspetta che Mi grotto la gamba Beccola Witch Mi incazzo Adesso c'è per forza Perché non l'abbiamo ancora incontrato Oddio Che è? C'è Allora evitiamo di spararla addosso Allora se non la spariamo Non ci Non ci tocca Giusto? Esatto Quindi Ok E se ci andiamo vicino? Anche Ci incazza Stiamo lì alla larga Stiamo lì alla larga Pianga per i cazzi suoi Witch Non stia a romperci Via Ok io sono dentro Corrette stronzi Cosa fanno? Entrate Come on Dai entra anche tu Chiudi staccacchio di poche Rub qui se vuoi c'è il mirino laser Mirino laser? E qui dove sono io qua Prendi l'arma che vuoi E poi vieni qui dove sono io Ah io mi tengo questo Ci sta Anch'io mi sono tenuto qua Mi sono soltanto ricaricato le munizie E poi niente Andiamo così Sì andiamo così Vai Buono dai Dicono dalla regia Qui stanno ridendo tutti Sicuramente per la sposa fantasma Che piange La parte assassina di Egli è confido in noi Un attimo solo rastone Ok ok Intanto Va bene Tranquillo Arriva Ah minchia Dobbiamo andare Per la coca cola Vai ci siamo È vero Che cosa? Dobbiamo prendere la coca cola adesso Ah è la coca raga Coca chili coca cola O fare il giro Saltiamo di qua vai Ah infatti è più forte Diretti Ecco qua Ora Mosso a cazzo Prendiamo la coca I zombie sono attirati La prendi te? Sì Ok io da inizio Via C'ho la coca Bisogna proprio tornare indietro Eh lo so Allora la appoggio qua Ti aiuto Non passeranno di qua Lancia una miccia Via Aspetta Dov'è che l'hai lanciata? Lì all'entrata Provo di uscire Con la coca Cazzo ma proprio adesso che non c'era nessuno è partita Ma dai Ok Ok la coca è fuori dal vuoto È un macello Allora qui c'è il coca Ok va bene Vai 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 Il mitra che abbiamo noi ragazzi è una cosa straordinaria veramente Ragazzi ce la facciamo No tranquillo tienila in mano ti proteggiamo noi Finché sono così pochi Vabbè vado io C'è di te c'è di te Io gliela tiro sulla coca Vai Ehi Che tiro Eh ma sei nero Sei un ottimo giocatore di basche Sono un ottimo giocatore di basche Via via corriamo direttamente Anzi gliela do E tanto dobbiamo ripassare da sotto Eh te dagliela Te Se arrivano zombie ti copro Beccati sta Sta bottiglia di coca Se arrivano zombie ti copro Ok è esploso il coso Mamma mia ragazzi Che 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 squadra Oh bella Lucky Ciao a tutti sono passato per un saluto Grazie mille Lucky Come stai bello Ciao Lucky grazie per essere venuto in live Oddio Ok Air Bastion Air Bastion Ciao con me Ciao con te Ciao un po' con tutti Lancio questo Di fargli una finta ma Faccio che sta per lanciarla Ok Madonna Mi stavo per scurare Perché non muore Cioè è fortissimo È una cosa assurda Ci vuole un mucchio di roba Vedi che li ha tirati tutti lì va È utile È utilissima Cioè gli piace quella roba fettecchiosa Per caricare Mamma mia Ci ho fatto una trip Oddio Oh chi è Ok andò Madonna ragazzi Ma che squadra siamo Possiamo proseguire Approvata Questa squadra Cioè Formidabile Sì Eh Lucky Ci conosciamo da quasi un anno Anche con Lucky Raga Molto bravo Molto bravo Lucky eh Aspettione Minchia Minchia che salto ha fatto Sì l'hai ucciso Te l'hunter Sì sì Gli ho dato un Giovanni Giovanni Gli ho dato un Giovanni Giovanni in bocca Mitra a tutto Bravirà Grazie Ellie Ellie ti fa per noi Grande Lo sbocchino Lo sbrocchetto Occhio dietro che c'è il salterino No non è una switch Mi sta venendo male Ok Qui dicono dalla chat Fate pazzi Attaccate una witch Ok Siamo nella safe No è un checkpoint Però c'è una cura per tutti Vai Uh c'è il pom pazza C'era il pom pazza bello Allora Rochelle ha fatto 151 kill Io 95 Più Il badass Rochelle ci ha fuso di nuovo nel dominatore tank Vabbè incredibile Complimenti per il Nick Nick di chi? Killer speciale Sempre Rochelle La migliore Diffiamo per voi Ce l'abbiamo fatta ragazzi L'abbiamo chiuso sto Sto livello Madonna Cioè ci ha fatto Veramente sudare Sì c'ha Beh io mi prenderei il nuovo pom pazza Che è tanta roba Il nuovo pom pazza ci sta tutto Oddio Oddio Guarda cosa c'è Meno male che Meno male che Tanto se non apriamo Non entrano Quindi Ricaricati sempre un po' le armi È davvero cazzuto È difficile questo livello Vabbè dai Ce la possiamo fare Ci proviamo Eh sì Come sempre Ok Al buio Perfetto Al buio Ci piace Andiamo un po' easy con la pistola Guarda che si inizia sempre pesantissimo Sto gioco E' anche il giovane Qui c'è una molotov Dai E' un po' i zombie che mi attacchia le spalle Maledetto È bellissimo sto pompa Così un centro commerciale Questo Sì Oddio è partita Manicchi Ah forse Allora Dobbiamo salire Vedo Oddio Il tankone Vabbè stiamo vicini Perché sennò E io ci ho un coso in test Ok Bene Mi curo anch'io Aspetta Vai Precisi qui Ma il multiplayer lo portate? Sì assolutamente Lo portiamo Abbiamo iniziato con il multiplayer Tipo sopravvivenza Ma tu dici proprio quello Dove giochi contro altri player Lo infetto Eccetera Guarda magari potremmo fare che Tipo che ore sono? Aspetta te lo dico subito Eh sono le 11 e mezzo Ecco là Ha volato il tempo E' vero Pensavo fossero le 10 e mezzo Eh se vuoi Finiamo questa Sì questa la finiamo Poi se avanza il tempo Facciamo giusto una mappa Multiplayer E poi raga Se vi è piaciuto così tanto Continueremo a portarlo Ovviamente Allora di qua Tanto rimane salvata questa mappa C'è i progressi che abbiamo fatto Puoi iniziare anche la mappa subito dopo questa Se vuoi Ah ok Vabbè noi andiamo per gradi Ora secondo me dovremmo scendere Oh cazzo ciccione Penso Anche se su forse c'è C'è qualcosa Sì vabbè cosa fa le ginkane Oh cosa Te muori Sì perché dovremmo scendere Ehi Oddio Fa buona Ma io c'ho pochissima vita E me ne sono accorto adesso Oddio E infatti sei morto Ho preso delle pillole Comunque qua Io andavo avanti come Rambo Qui c'è una cappa Vabbè Ok Mettiamoci un po' di antidorist Se ce la faccio Ok Tipo forse con questo posso curarti Vieni qua Dove dov'è Bella Tony Aspetta un attimo Ti ho curato No me la son bevuta io Ah vabbè Eh dai No non è una luce piena Ma quanti cazzo Di scale dobbiamo fare Ah meglio Poi finita le munizioni Ammazza Li sta stuprando Qualcosa mi aveva preso un attimo Poi Non so come Vabbè Questa l'ho spalata nella schiena Continuato ad andare Oddio c'è la witch C'è la witch No helpatemi Mi sta mangiando la testa questo bastardo Sono le scale immobili Scale immobili che portano su Rastone Sto per morire Da che parte Ok Aspetta Io vedo tutto grigio Ti avverto Sono a terra Mi piace la witch qui Holy shit Ok son vivo Io se vado a terra Oh cazzo No no la witch no La witch no Non cagliamo Oh cio cio Oh Ok Forse di qua Di qua che c'è la porta giù Di qua Di qua Di qua Via 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 Sto zappicando con un mandrillo Adesso no Io muoio se mi becca Ok andato Ok Perché ho bisogno di un medico Forse è qua Vieni Che se no rimaci C'è un defibrillato Vabbè l'ho preso Vabbè se muoio mi puoi rianimare Con qualcosa Eh dai non è male Dai Oddio Dietro Cazzo c'è il tipo con la lingua Ok Porca zozza Di qua Cioè io sto per morire male Sì sì Tra tutti e due Siamo messi bene Oh cio 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 Che sto per morire Non sparare Anche questa sembra una zona da save room Qui spara Spara uno alla volta Se me ti moriamo male Cazzo Oh cazzarola No vabbè Questo qui Nel corridoio Ma che sfiga Ok mi stanno Rianimando Dai che c'è il defibrillatore Minchia raga Che situazione Situazione Non è l'osca qua Perché vedo tutto grigio Per morire Eh se muoio stavolta Sei fottuto Sempre incoraggiante Sì Non sapevo come dirlo in modo diverso Insomma Se senza Senza cuore È inquietante sta cosa Sì ma tutto in bianca e nero così mi mette Qui ci sono le zebbre Cioè fanno veramente paura Queste cose Vabbè Oddio dietro Dietro la sta Mannaggia Vabbè ma che È la fine del mondo Sì ciao Qualcos'altro No non ce la facciamo Perché vengono attirati tutti qui Dalla Vedrai le cose che fa casino Eh dobbiamo levare Dall'allarme Dobbiamo fare fuga Dobbiamo disattivare l'allarme Ah dal piano terzo Addio Dobbiamo salire Eh già Vai via 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 Facciamo strada Siamo di qua che non c'è nessuno No sono morto Sei andato? Sì Oddio Oddio È tutto in mano tua Eh Siamo con Rasta Hashtag sto con Rasta Ti conviene correre al piano terzo Ma di brutto anche Eh il problema è che c'è poca vita Ninchi hanno ucciso il tuo compagno O potresti tirar su No non morirmi No non morirmi Rastone Dietro ne hai uno che ti sta menando Bene mi sono rimasti 60 colpi Aia Dietro ne hai uno Occio via via Eh ora sei morto Cazzo No ragazzi Siamo morti Come delle stoffanti Minchia che difficile Che è questo livello Che è difficile che è questo livello Ma questi li ammazziamo così con la pistola Siamo morti Anche in mezzo alla porta Passano Cioè guarda Ci sale Ok 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 Zombie Io direi che possiamo correre direttamente su Così Snelliamo un po' il tragitto Ho convinto che ci sia Una save room Prima di trovare Qui vicino A qualche parte Prima di trovare quella roba là Dei Così che Vi ha allarme Dici Secondo me Sì Dobbiamo stare attenti Guardare bene Perché secondo me Quella è una trappola La proviamo E quindi magari potremmo evitarla Bellissimo come vogliono Cetti i zombie Ciao bandito Benvenuti in live Ciao bandito Benvenuti in live Oddio Oddio Usare i pistolini Così almeno dopo Ne ho ancora un po' di sì Eh stai giù Eh? Cosa è l'altro rumor? Ah di qua di qua Forse si può passare Ma non si va da nessuna parte Eh no Non c'è nulla Qua Bello Eh mi sa che dobbiamo uscire C'è il tipo enorme Ah ci mancava Eh neppure sbucca tempo Ok 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 Che casino Banco Banco Aspetta che prelevo un attimo Prima di andare a bere Ok Ok E mo da che parte Di qua Penso di di sì Ok Penso Ma che cosa stai giocando qua? Sì sì con la tastiera raga Sì sì Tutti due in mano Si vede quando siamo smirati? Oddio Il salterino È bezzo di me Lo sapevo che Spostati Spero che Servizio Bella diavolo Benvenuto Ti do dieci Diablo Eh ne ha già ho Guarda di là Di qua Su per le scale va Su per le scale Ci proviamo Io penso che dovremmo andare su per le scale Il ghiallo è bucato La cassa granica Via Per tenermi Aspetta che mi curo Secondo me dovresti farlo anche te Eh mi sa di sì Buona idea Me la sparo Io ho usato le pistoline Per tenermi le munizioni Ahia Ancora un po' per il corpo Oh ok Le mitiche pistoline E qui è prima di zombie Faccio perché potrebbe esserci la La sposa Eh sì Lo potremmo rischiare Ma invece c'è un tank Minchia mi ha tirato la sassata Think è esagerato È esagerato Io gli ho lanciato una moto Mi sa che l'ho incazzato L'ho fatto incazzare ancora di più Io non vedo più niente Dov'è? È andato è andato è andato È andato Wow Bene Simo ora fa programmi su canale 8 Sempre di cucina In cucina con Anna e strabello Cassa cranica Madora raga I giochi belli di una volta Ok mi sa che dobbiamo passare di nuovo Di qua? Ok Mi sono guardato intorno Sì sì di qua Guarda secondo me non c'è la Come si chiama? La seed room Mi sto soffocando Oddio Un attimo Proteggimi le spalle Mi metto qua Ti sei curando? Ti devo bere Oddio Bella the power Benvenuti in live Quanto costa questo gioco? Non è possibile Allora questo gioco io l'ho preso in offerta A 1,99 euro Però adesso è salito di nuovo Quanto costerà? Eh sui 20 mi sa Eh costa 20 ragazzi Perché è sempre un best gioco Se no puoi trovare la key a meno In alcuni siti Eh in alcuni siti esterni la puoi comprare a meno È vero Eh io ho fatto così Non mi dici morirmi in live Ragazzi sai quanto è visual Per essere morito in live Più meno nella storia C'è qualcosa Una porta Oddio Ho preso il rinanimatore Allora Sì col defibrillatore sicuramente le ammazzo Delle pillole Dai muori Non muore Mortaci tu Ok Allora qui c'è la katana Vai C'è anche tu? Vai Scusa io mi stavo facendo una partita Ah stavi giocando Adesso te lo spacco Adesso non giochi più Ok Annaggia Stavi giocando dentro un gioco Sì tipo sì Cazzo c'è un coso in terza Ok da qui dobbiamo uscire il prima possibile Via Infatti è la cosa migliore Andiamo via Andiamo via Vieni di qua a sinistra Ok Vai corri che ti proteggo Dov'è 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 Vai su 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 Via Fatti strada con la katana Mamma mia le kill Le kill No Mi giochi Arrivo Zacche te Te stai a terra Bastardo Stai a curarmi Stai buono Andiamoci di katana Di cativeria Come mission Zacche te Zacche te Zac Zac Oddio ho fatto la basetta anche Alla nostra amica qua No quello Ok Via Mamma mia Sei un killer Dov'è di qua? Vai 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 Porca Via Tendiamoli tutti Eh bastardi Vabbè Vabbè cos'è? Ci muoio male qua Rastone Vai Dimitra Vabbè tu Sei un pazzo Oddio c'è il tank Ma che cazzo sta succedendo? Sono a terra No Rastone Qui mi sta rianimando Bene bene Oddio ma devi ricaricare adesso? Porca miseria No Ho lasciato la katana No la katana la vuoi Mamma mia Medikit 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 Nessun medikit Ce l'abbiamo fatta Eh c'è un defibrillatore Ma niente medikit Ok Uscita Allora Leggo un po' di Alla Mission Rubaldo Mission era una grande Rub ma per te Per caso lavori Youtube Il tuo lavoro Non te l'ho mai chiesto Alla no diavolo Ovviamente no Non è il mio lavoro Adesso non sta lavorando In questo periodo Però Insomma Si spera di trovare presto Qualcos'altro Di nuovo Forse è più semplice Davvero bellissimo Il tatuaggio Ho appena scoperto Che Mission muore Spoiler Vabbè Spoiler Non lo sapevo I spoileroni Ci devono sempre Eh c'è C'è sempre un amico Che ti spoilerà le cose Alcuno si Parlava di Aiuto Ok Oh cazzo Vai 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 Andiamo Zacche te Io ho un amico Tessutore Per te No Laura Mica raga Questo era uno spoiler Brutto È andata Via Rubaldo A un gioco Aiuto Niente Io muoio Porca Cazzozza Hai su test di cazzo Non mi sparate addosso Niente sono a terra Sono a terra rastone Bella Mi hanno appena rianimato Anche a me Anche a me Comunque c'è Dei fribillatore Quindi Cattroia C'ho solo 29 29 di vita Ah dai Io No 20 Uh aspetta Aspetta Lancio La bomba Quella che attira Sì Bella Lasciamo che faccia il suo dovere Sì 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 Bella Bella Vai 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 Mi sa che dovremmo salire le scale Oh cazzo Ma dai Ma non è possibile Aspetta un po' Aspetta un po' Oh c'è la La stronza c'è Passiamoci alla larga Eh mi sa che dobbiamo passare di D Credo Eh vai 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 Andate via Andate via Perfetto Menomale che i nostri compagni di squadra Non guardiamo qua in fondo se Vabbè Se c'era il save room O cosa? Non il save room ma Se c'era magari qualche medikit Di lago Eh il medikit a me servirebbe Eh Ho sette di vita Chi lo dici? Io ce l'ho dodici Dai guardiamo laggiù Se c'è qualcosa Perché di qua Aia Di qua? No laggiù A sinistra Andiamo andiamo Perché magari c'è qualcosa Allora perché mi è diventata Un po' di pratica Bella per noi Bella Barterk Benvenuto O welcome Cos'è successo? Cosa? Come ho fatto a morire? Aspetta c'è il defibrillatore Dove sei morto? Eh Un po' avanti Minchia c'è uno di vita Sono lo stronzo Ah ecco ti Rinasci Oddio Vai Minchia c'è uno di vita Cioè praticamente sono una carcassa Che cammina Cazzo io ora C'ho più vita di prima E vai buono Bene Allora Allora Rasta Io c'ho anche una dinamite Quindi niente Cerchiamo una cura per me Eh Guardo Guardo io Guardo i Sì Fai prima andare tu Perché se no io non ci arrivo Mai nella vita Ma non è che qualcuno mi cura Non è che ce l'avete qualche cura Dai che ce l'avete No Non c'è un cazzo Mi sa Noi da qua siamo arrivati O siamo sei No Qui giù non siamo andati E là dobbiamo scendere giù Mi sa A sto punto Surge non c'era niente No Eh niente Andiamo giù Da quanto ha fatto Sesso con Rick Eh madonna Come gioco comunque Qual è la trama Allora Rastone Chiedono Qual è la trama di questo gioco La puoi sapere solo tu Perché io non la so Da punto a punto Soprovvivere Vabbè Infezione zombie Paziente alfa Epidemia Un po' come The Walking Dead Non si sa Qual è la trama La solita trama zombie Eh la trama zombie Non ha trame zombie Che domanda è Rasta io non arriverò mai Dove sei? Io sto facendo Oddio Non so dove sono Dimmi che c'è una cura qualcosa Eh mi stavo guardando intorno Una pillola Ma dove stai te? Sono tutto giù Sono tutto giù Ah ecco Fermo Qua Eccosi qua No Non vedi che c'è quel Quel carro elevatore Secondo me No forse è di qua Ma il carro elevatore Non so se Ruba tu e le tue pillole Eh no Non sono sopra il carro Ma non succede niente Non succede nulla Ma cosa dobbiamo fare qua Però è un po' preso finire le munizioni Mi devi sentire Oh Fai scendere Oh Oh merda Dobbiamo poter passare di qua Forse Eh Ah eh Allora se volete potete vedere il video di ReddPixel Che è il ReddPixel? Ah si so chi è Eh ma si mi parleranno Oh merda so per morire Sì meglio sono morto Sono morto a rastone Gli zombie Sono a terra rastone Parla qualcosa della trama Ok mi stanno reanimando Bella Almeno posso Andar dritto Prossima morte Prossima morte sono morto definitivamente però Io sto cercando Qualcosa Ma qui non c'è Un cazzo Ma non c'è un tipo Un obiettivo Ti dice cosa dobbiamo fare Merda 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 La strega Cioè io stavo salendo e me la son beccato davanti No questa è la nostra La nostra fine Venite zombie venite Ok via Ah di qua Di qua rastone E' trovato Può essere Può essere Andiamo su No forse di qua addirittura Ah si eccola l'uscita di qua Ma di qua siamo arrivati Mi sa Sì sì di qua siamo arrivati Sì Allora di su Sì siamo arrivati di là Di qua siamo arrivati Quindi dobbiamo No no Sono pazzi No no ma Non rompere le palle Se non le rompi le palle Se ne va da sola Oddio Ok Vabbè uno l'ha fatto fuori Allora dobbiamo salire Io provo a salire A vedere se c'è qualcosa Va va andiamo Salgo con la mia katana Che è l'unica arma che ho Andiamo 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 ora Qui non ci viene Oh c'è tipo che salta Corri corri Merda io c'è stato una katana Ok Stanno salendo un mucchio di zombie Da dietro Cazzo mi Ho visto la save room E mi si è impallato il computer C'è? Davanti a me c'è Ok Sono tornato Sono tornato Ho visto la save room Sono morto? No definitivamente Non ci credo Che sfiga Ho trovato la save room E quindi rinasco Sì alla grande Bella raga Anche questa è andata A me basta che Mi dai 10 Ciao jaru Buonanotte Ciao jaru Buonanotte Minchia sono morto proprio sulla fine Però vabbè Ci stava Vabbè direi che anche Mezzanotte è meno 10 Quindi Insomma O ci facciamo una modalità fast Online In una lobby Oppure quitiamo Non so come sia Quella modalità Sicuramente Beh non l'abbiamo mai provata Io non Non ho idea Anche io Quindi Dice Simone Dai pvp Quindi torniamo al menu principale Vediamo com'è che si fa Ok Torna al menu principale Sì Modalità avversario Non potete vedervi tra voi Ma loro vi vedono No Gioca avversario Gioca come survivor Infected Ah eccola qua Modalità Online Ok Premiamo questa Gioca con gli amici Gran nuova Aspetta Qual è che ti invito io? Ah giusto Sì Gioca avversario? Sì Sì Questa modalità è tosta Sì Eccoti qua L'è tosta Ok Sì ok Beh Parto? Sì sì No Questa vi è chat vocale Inizia partita Ma non è che siamo io contro di te Tipo Non credo Alla fine siamo Abbiamo fatto un Cosa insieme Eh Tony Facciamo questa partita E poi Stacchiamo Che anche il resto Deveva staccare presto Quindi Non è che siamo io contro di te Boh Potrebbe essere Non so Se siamo soltanto io e te Può essere Infected Oppure ci ritroviamo in squadra insieme Contro nessuno Ma come? A me una volta è capitato Eh Un code Ah io sono zombie Ok Io sono uno stronzo Sopravvissuto Sono un hunter Bene bene Ok io sono lo zombietto Ah da qui non posso uscire Ok Beh tutti questi stronzi Stanno aspettando me Che trovo la via d'uscita Ok Dunque Ma perché sono sopra un tetto? E dov'è la via d'uscita? Devi scendere giù Ok Trovata Zombie Ah che figata Passare in mezzo alle case Ah sì Io sto usando Gli altri personaggi Perché sono morto? Così a caso Ma che è sta roba? Ah ok Da qui posso rinascere Ok Ce lo sputo Questa parte qua è bella farla nella storia Questa che sto facendo io ora Oddio Il rastone mi ha segato di brutto Mi senti? Sì sì Ah ok Questa parte qua è bella farla nella storia Perché passare in mezzo Passare nei Come si chiamano? Negli appartamenti pieni di zombie È una figlia Ok Ecco ti qua rastone Ah ma eri te? Sì sì Mi sei saltato addosso Ci segavano subito Oddio Sei troppo forte Mi sei saltato addosso te Sì sì Cazzo Secondo me puoi anche cambiare E te lo dà a random Ah ok Adesso cos'è? Adesso sono il vomitino Ah bene Eh da qua No devo andare a dentro Ho spinto la sigaretta Ah di qui Ah di qui Giù Ok 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 Abbiamo completato il 25% del percorso Ok da me si sta ricaricando tipo l'abilità Non lo so No 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 avete chiuso qua la porta Ah se chiedete le porte io non posso andare avanti Oh cazzo Ma che è sta roba Non puoi aprire le porte? Eh no Come? Ah le posso distruggere però te Eh Distruggere? Vabbè Allora eh State fuggendo però il portaccio Eh sì Il mio obiettivo è questo Sai E a quanto pare il mio obiettivo è scappare Oh cazzo Oddio Ma è un casino È meglio uccidere mi sa Perché lo zombie è veramente scarso Cioè quindi verrà quello che ti capita Se mi capita tipo il tank Io spero di no Se mi capita il tank Ciao Io sono rimasto con una katana Qua non c'è niente Eh vabbè ma avete shottato con questo Devi saperli usare Sì perché tipo ci sono quelli che muoiono con un colpo Quindi devono stare dietro Arrivo col tank Ciao Ah ma ci sono anche gli zombetti Normali Ok Qui Oddio Se facevamo questa parte nella storia Ci spaccavamo un sacco Ah cazzo Ho ucciso uno sbocchino da vicino Oddio Stavo scappando Cioè ti ho avuto questo salto Però è bellina questa malattia Però bisogna essere bravi È un po' Un casino ma Ci si può provare È vero con il tank Oddio c'è il tank Addio raga Stai usando il tank? Ah no non è il tank È il charger Con la katana non so quanto farà Comunque sono al 75% del percorso Mi sta lo segnando Mi sta lo segnando Scusate Faccio lo dà il vomitino adesso Oh cazzo Nooo Ok Ho infastilito una strega Mi la sono ritrovata da là Allora sono il cavo di tu Dai su rianimatevi No vabbè Luiz Cazzo Avete vinto? No abbiamo vinto a noi Cioè cosa è successo? Non lo so Non so Allora Tutta la campagna Siamo qua Adesso io sono il sopravvissuto E tu sei il mostro Perché c'è una volta il sopravvissuto La volta va bene Quindi adesso tu sei il mostro Giusto? Sì Bene Lo so anche altri ragazzi Non posso rigenerarmi qui Ok Eh no perché devi uscire fuori dall'area nostra Devi allontanarti E cosa faccio? Mi butto giù? Eh va nelle scale Devi entrare Sì ti devi buttar giù comunque Mi ha ritornato su Ah ok Ok Oddio charger Ah di qui non posso passare Perché non posso passare Dove cazzo è Ma Ok Ah pensa che stavi giocando con i bot Dimmi se non è divertente questa parte Bella questa Oddio Nell'acido Cazzo di parte passa Omer sei tu questo No io sto cercando di capire Come Come passare Da di qua Oh Ragazzi è un bordello Stiamo giocando contro i rushstone Sei tu questo No io sono ancora dentro il coso Sto cercando di capire come uscirne Ma come? Devi sfondere le porte Con il tasto a destro Perché noi siamo praticamente già fuori Non rispondo a tutti Siamo nel B Ok Dove Cazzo Sei tu questo Oddio Ero io Ammata Non rispondo a tutti Aia Billa 1 Stilo perdona C'è Ammazzato Blaine Sei tu questo Dai fuggi Oddio Oddio Non ho più munizioni Mi hai ucciso Io avevo preso il tuo compagno con la lingua Oddio c'è la witch Oddio È la fine Aiuto No No non potete vincere il tuo compagno con la lingua Ma che è Sono morto dai Sì cazzo E' tu questo Ma è No Bill 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 Mi sa morire C'è uno pari raga Oddio Mi hai ucciso Mi hai ucciso La parità totale No in realtà È il fatto più punteggio Questa che Allora punteggio Malita Versa la tua squadra Sta vincendo All'inizio del prossimo capitolo Giocherai come survival Quindi di nuovo Survy E tu Praticamente questo è lo spareggio C'è una cosa del genere Penso di sì Che casino Ah ok Sono di nuovo Sì di nuovo Sì io sono Survy E tu Un brutto ceffo Un brutto ceffo Perché sono nella save room con voi Ora c'ho l'arma OP però Ah devo Ok devo attendere che Sei città Dalla zona scura Oh mia C'è più Non 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 prendiamo le arma a 4 palla bisogna fare spazio qua è Roberto è il flaccio la tipa amico bella stanno metropolitano metodo ma sito comunque non può rispondere che trova un sopravvissuto siamo peggio degli zombie ammazza sei buona terra ti ho preso no mi fa a me Bill mi ha aiutato, bravo Bill di qua cazzo stiamo passando niente i dolorifici ah ecco è bella si mi risparlo vai non so esattamente dove stiamo andando ma da qualche parte ma ma pazzarola io computer sta iniziando a perdersi no io si inizia da morire di brutto cacchio mi sono immischiato oddio il bordello dove sei la stone? lo so che sei qua eh si ma in agguato finchè siete qui vicino a me non posso respawnarmi eh non so dove cacchio andare cazzo forse di qua oddio che posto è posto molto horror di qua ok forse se mi piazzo qua forse di qua no dove mi son messo? cioè forse ehi scimo carino eh hai detto eh quanti sono? quanti sono? accidenti sono io sono io comunque è quello che ti ho fatto ma sei tu fai 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 glue fai 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 ge fai 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 dmue il Se di qua è tutto distrutto Non possiamo passare L'unica via è uscire da qua Aia Prima prendete i tuoi Bastardo, no, non ci sono i miei compagni Dove siete? Minchia, quanto mi stai facendo male Avevo preso te Eh sì Cazzarola Non posso neanche rispondare Qua che trovo degli umani Ma che parte Qua no Qualcuno vi ha sbloccato addosso? No, di tu Maledetto Porca miseria Mi serve tipo una cura Allora Avete completato il 25% Sì, immagina Perché io non so dove andare Ragazzi, secondo voi Perdo o vinco Con questo giro? Secondo me perdo di brutto Sì sì, sono vicino ai sudani Però non posso rigenerarmi Oh ma che sta succedendo là dietro? Venite ragazzi Via Arrivo Via Venga, sai che c'è una mano? Mica sei tu questo No, no, mi devo ancora rispondare Oh Dio C'è il bordello qua Minchia Che roba Mamma mia Mi è piaciuto questo Sento il rumore dei tank Eh già Porca Oddio Venite No Addio ragazzi Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove? Oddio Oddio santo Uccidetelo Porca miseria Oh mio dio No, ho ucciso un boomer Ma non muori Incredibile No vabbè sono morto Cioè ragazzi Che cazzo Governatore che dio Niente, siamo morti ragazzi Ha vinto il rastone Quando ho visto Preparati a diventare un tank Ho detto Vabbè Ah no ma continua all'infinito No vabbè Dai ci fermiamo qua Che sennò Si fa veramente tardi Vabbè raga Una modalità Molto molto carina Questa Teniamo al menu Beh oggi Ci sono divertiti Dai ragazzi Visto che vi è piaciuto Organizzeremo sicuramente Insomma Settimana prossima Con il rastone E niente Continuiamo un po' La modalità Sto voleremo E magari facciamo Proviamo anche qualche altra modalità Vi so che ce ne sono tantissime Ce ne sono veramente tante Che non abbiamo provato Mutazione C'è veramente un sacco di roba C'è veramente un sacco di roba Allora raga Io niente Vi saluto Ringrazio Rasta Mi raccomando Se non siete iscritti Sul canale di Rasta Passateci Perché Porta veramente Tantissimi giochi Molto interessanti Molti titoli Alcuni sono In comune Comunque abbiamo un genere Più o meno simile Io e Rasta Quindi insomma Se vi piace Quello che porto io Sicuramente Vi piacerà anche Quello che porta a lui E niente Dai raga Vi salutiamo Vi diamo la buona notte Grazie mille Per averci fatto compagnia Ringraziamo anche Franzone Per lo spoiler Grazie Franz Per uno Grazie mille Egli Buona notte Michela Ciao Simone Chi altro è rimasto Scrivete Palesatevi Sono tutti qua Mi sa che siete voi Cioè gli altri non scrivono Simone Franz Michi Michi si Eh vabbè Allora Buonanotte a tutti ragazzi Vi abbiamo salutato Buonanotte a tutti Grazie Grazie Gambissima E alla prossima Alla prossima Bella raga Buonanotte a tutti